Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per darvi i miei pronostici sulla settima giornata Sulle partite della settima giornata di campionato, ecco Che si aprirà domani pomeriggio alle 3 con il derby Roma-Lazio e si chiuderà lunedì sera con Sampdoria Spal Non chiedetemi perché La scorsa giornata è andata molto bene, abbiamo azzeccato credo 7 pronostici su 10 Forse 6 su 10, o persino 8 su 10, non voglio sbagliarmi, non ho controllato Però come vedete si migliora, ecco, si migliora di giornata in giornata Iniziamo con Roma-Lazio Gol Gol entrambe le squadre segnano, sì Sarò all'Olimpico in curva nord e mi vedo esultare entrambe le tifoserie Gol entrambe le squadre segnano, è quotata 1,43 Anche perché sinceramente non vorrei sbilanciarmi su questa partita in particolare Juventus-Napoli si gioca invece 3 ore dopo l'inizio di Roma-Lazio Quindi alle 6 di pomeriggio di domani e secondo me vincerà la Juventus L'1 è quotata 1,77 Il Napoli che vince per due anni di fila lo Juventus Stadium non lo vedo per niente Nonostante comunque il cambio di panchina, secondo me la Juventus vincerà ancora E non voglio neanche mettere 1x, no no, 1 secco, quotata 1,77 Che è molto, è molto Inter-Cagliari serale, 8,5 Secondo me vincerà l'Inter come l'anno scorso quando vinse 4-0 a campionato quasi finito Secondo me sarà una partita più combattuta rispetto a quella dell'anno scorso Però vincerà sempre la squadra di Spalletti L'1 è quotata 1,33 Che è accettabile Ma passiamo alle partite di domenica Domenica 30 A mezzogiorno e mezza giocano Bologna e Udinese E questa è una partita interessante Già, partita davvero interessante C'è ancora da capire il ruolo di questo Bologna nel campionato Il Bologna che ha battuto la Roma 2-0 Ma che poi va a pareggiare a Frosinone 0-0 L'Udinese invece anche contro Lazio ha giocato molto bene È andato vicino al pareggio un paio di volte Quindi sta in forma Sta in forma Io ragazzi metterei un under 3,5 Un under 3,5 semplicemente perché non vorrei rischiarmela Questa partita non vorrei rischiarmela L'under 3,5 è quotata 1,16 Che è una quotazione molto bassa Però ripeto ragazzi Meglio non rischiarla questa partita Under 3,5 quindi le squadre non segneranno più di 3 gol in totale O almeno non credo che sia così Le partite delle 3 di pomeriggio sono ben 3 Chievo Torino, Fiorentina Atalanta e Frosinone Genoa Chievo Torino Secondo me Il Chievo non vincerà neanche questa Però Le squadre potrebbero anche pareggiare Quindi X2 X2 che è quotato A 1,22 Anche questa è una quotazione molto bassa Però Non potrei scegliere altrimenti ragazzi Chievo Torino è una partita da X2 Non credo che il Torino possa perdere A Verona Fiorentina Atalanta La Fiorentina finora credo abbia vinto tutte le partite casalinghe Ha battuto 6 a 1 il Chievo 1 a 0 l'Udinese E 3 a 0 la Spal Sì Mentre in trasferta fa un po' di fatica Però è un'ottima Fiorentina All'Artemio Franchi Secondo me batterà l'Atalanta Qui mi sbilancio molto L'1 è quotato a 2,25 Ragazzi potrebbe aumentare l'importo in caso di vincita Della vostra schedina Ecco se volete scommetterci su Credo che la Fiorentina batterà l'Atalanta Perché l'Atalanta non si è ancora del tutto ripresa Dall'alimazione in Europa League Sì È riuscita a strappare un pareggio a San Siro contro il Milan Però ha anche avuto molta difficoltà A sbloccare la partita in casa contro il Torino Quindi Fiorentina Atalanta 1 Frosinone Genoa Frosinone Genoa Frosinone Genoa ragazzi No goal No goal Il Genoa fa molta fatica in trasferta Il Frosinone fa molta fatica in generale Quindi non lo so Il Frosinone non ha ancora fatto un gol in questo campionato Il Genoa invece in trasferta Ne ha fatti un paio Anzi più di un paio Però Non la vedo bene Ecco Non la vedo bene questa partita È una partita da no goal Il no goal È quotato a 1,77 Quindi come l'1 di Juventus Napoli Vi consiglio di giocarvi il no goal Parma Empoli Delle 6 di pomeriggio Partita che non posso perdermi No la perderò perché starò in viaggio Così come perderò tutte le altre della domenica Forse riesco a vedermi Sassuolo Milan la sera Perché domenica starò in viaggio per Londra ragazzi Parma Empoli Parma Empoli Non voglio Non voglio azzardare nessun pronostico ragazzi Parma Empoli Davvero non so cosa possa accadere Perché devo ancora inquadrare queste due squadre Che secondo me Ora come ora meritano di salvarsi Quindi sono squadre da Serie A Però Non si sa mai Sassuolo Milan Sassuolo Milan Secondo me il Milan tornerà la vittoria È vero Lo dico sempre L'ho detto contro l'Atalanta L'ho detto contro l'Empoli Alla fine il Milan è sempre stato raggiunto nei minuti finali Il Sassuolo è una squadra molto più ostica rispetto ad Atalanta e Empoli In questo momento In questo preciso momento Ed è proprio per questo che penso che il Milan vincerà Proprio perché il Sassuolo è una squadra ostica È davvero una squadra pericolosa Che in casa le ha vinte tutte E ha battuto anche l'Inter Voglio rischiarla ragazzi Sassuolo Milan 2 Potrei anche mettere un X2 Però Non lo so Io continuo a pensare che Milan batterà il Sassuolo Cioè Vedo la vittoria del Milan contro il Sassuolo Non lo so 2,25 E così come l'1 di Fiorentina Atalanta Ragazzi Fiorentina Atalanta 1 Sassuolo Milan 2 Rischiatele queste qui Rischiatele Poi Sampdoria Spal Ultima partita Under 2,5 O no Me la rischio l'Under 2,5 Me la rischio tanto Under 2,5 O Under 3,5 Ragazzi Non credo che le squadre segneranno più di 3 gol in totale Anche perché la Spal Ha dimostrato fino ad ora di essere una squadra Molto quadrata Molto equilibrata Ecco E' una giornata complicata questa Comunque Ditemi voi i vostri pronostici Sotto nei commenti ragazzi Questo video è molto corto Oggi pomeriggio sul Tardi Uscirà un altro video Quello sul fantacalcio tra youtubers Mettete un like se il video vi è piaciuto Se questo video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se per caso non l'avete ancora fatto Meglio per voi che lo abbiate fatto E noi ci vediamo successivamente Ciao ragazzi